Benvenuti nel mio canale. Cosa accadrà nella prossima puntata di SOMEONE DIFFERENT? Un altro episodio molto emozionante sarà con noi. Infine, Dohan realizza un video per Kenan. Si presenterà a Kenan con questo video. Anche se i suoi genitori non accettano, invierà questo video a Kenan. Quando Kenan avvierà il video, rimarrà scioccato da ciò che sentirà. Perché quello che dice Dohan sono cose molto pericolose. Dohan dirà, io sono te e tu sei me. Vivo in tempi che non ricordi. Ho letto il manifesto dell'assassino. Ho baciato Leila. Kenan proverà a digerire ciò che sente. Ma capirà che quello che dicono è vero. Perché non riusciva a capire perché stesse leggendo il manifesto dell'assassino. Ha anche detto che non l'avrebbe mai letto. Allora cosa è successo che gli ha fatto decidere di studiare? Questo non era il suo lavoro. Quando Leila gli ha chiesto perché mi è baciato, non è riuscito a trovare una risposta. Dohan dirà anche che Turan, il pubblico ministero, e Nevin lo hanno adottato. Dohan ricorderà a Kenan il giorno in cui andò all'orfanotrofio e... Vorrà che lei ricordi quanto è stato colpito, anche malato. Dirà infatti di essere nato in quell'incendio dell'orfanotrofio. Kenan non riusciva a dare un senso a quello che stava passando. Metterà a posto alcuni pezzi con il video di Dohan. Dohan potrebbe anche aver parlato degli omicidi da lui commessi. Ma un uomo molto intelligente sa che se lo fa sarà una confessione. Ecco perché penso che non lo farà. Allora perché Dohan ha fatto questo? Quale potrebbe essere il suo scopo? Dohan non è riuscito a convincere nessuno di non aver ucciso Ekrem ed è stato lasciato solo. Idris, Turan e Nevin volevano rinchiuderlo e impedirli di uccidere altre persone. Non importa quanto Dohan dicesse di non averlo fatto, non riusciva a convincerli. Per questo motivo potrebbe aver voluto farsi aiutare da Kenan. Anche Kenan è in grave pericolo. Ekrem deve aver appreso il nome di Kenan dall'orologiaio e deve aver saputo che Kenan era in pericolo. Kenan cosa sta affrontando e agire senza sapere cosa vogliono da lui questi uomini mette anche Dohan in pericolo. Dohan ora agirà insieme a Kenan e troverà queste persone chiamate Necati e Sein. Anche se Kenan e Dohan sono la stessa persona, cercheranno di ottenere risultati comportandosi come due persone diverse. Quindi Dohan ha preso la decisione giusta presentandosi a Kenan? Dopo questa notizia Kenan potrà andare dal medico, mostrare il video e chiedere il ricovero? Oppure le mie ipotesi potrebbero essere corrette? Non dimenticare di mettere mi piace al video ed esprimere le tue opinioni nei commenti. Arrivederci.